Ai sensi del Tuel non è completamente sbagliato. Allora, terminiamo il sondaggio, vediamo che la risposta giusta ovviamente è principio di sussidiarietà, anche se, come vi ho sempre detto, attenzione che la delega di funzioni non è in realtà esplicitazione del principio di sussidiarietà. Perché? Uno, la delega di funzioni implica il permanere della titolarità in capo allo Stato. Quindi, tecnicamente, non è una sussidiarietà. Questo è dimostrato dal fatto che la delega di funzioni, ad esempio Stato civile, elettorale, c'era anche prima delle riforme Bassanini e non si parlava di principio di sussidiarietà. Il punto è, la risposta giusta del 21 è la CI perché le altre sono sbagliate, ma non è corretta neanche la CI, non è veramente il principio di sussidiarietà con riferimento alle funzioni delegate o conferite. Ok? Non è completamente questo, però è l'unica meno sbagliata delle altre. Adesso vi metto il sondaggio per la numero 22. In base alla disciplina del GDPR, cosa si intende per profilazione? A. Qualsiasi forma di trattamento automatizzato consistente nell'utilizzo di dati personali finalizzata a valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica. B. Quella forma di trattamento dei dati dell'interessato svolta al solo fine di lavorare valutazioni prodromiche in merito ad eventuali future patologie. C. Quella forma di trattamento automatizzato dei dati svolta per fini sanitari e finalizzata esclusivamente alla definizione di un profilo psicologico della persona dell'interessato. A. Vediamo un po' la 20 idos. Abbiamo già poche risposte ancora, vi state scaldando. A. Vediamo un po' la 20 idos. Allora, questa è una domanda facilissima. Una domanda anche da tecnicale, come viene suggerito. Perché da tecnicale? Perché nella B c'è al solo, si scarta. Nella C c'è esclusivamente, si scarta. Rimane la A, che è la risposta corretta. Andiamo alla numero 23, la quale recita. In base al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di PR62-2013, il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico. A. Decida autonomamente gli standard di qualità e di quantità dell'amministrazione. B. Non è tenuta a tenere conto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione. C. Cura rispetto agli standard di qualità e quantità fissati dall'amministrazione. C. Marcella dice, mi è scomparso il quadro? Sì, dopo un po', dopo un po', si chiude il sondaggio e se ne apre un altro. 23A, 23B o 23C? 25B, 24B, 24B. intanto vi sto cercando un altro quiziz allora della 23 1 è proprio simpatica sì allora anche questa vedo che avete risposto correttamente la stragrande maggioranza di voi cura il rispetto degli standard di qualità e quantità fissati dall'amministrazione ci mancherebbe che decidesse autonomamente gli standard di qualità e di quantità oppure che non fosse tenuto a tenerne conto ci mancherebbe 24 ai sensi del regolamento GDPR l'informativa A. deve indicare le finalità per le quali un dato personale è raccolto B. non deve rendere dotto l'interessato delle specifiche finalità perseguite nella raccolta del dato personale C. deve indicare le finalità per le quali un dato personale è raccolto solo se il titolare del trattamento lo ritiene necessario vediamo anche qui le vostre risposte nel frattempo io continuo a cercare il quiziz adatto questo non lo volevo fare facilissimo ma neanche difficilissimo quindi lo sto sto cercando un qualcosa di intermedio oh questo 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 vai allora bravo Corrado richiamali tutti al tirchio like ma come faccio a rispondere a sondaggio se non vedo la domanda la domanda è a video e il sondaggio è nella striscia blu la domanda è questa qui la 24 che si vede sul video sono troppo facili queste domande? sì sono troppo facili però vediamo se arriva la batosta vediamo se arriva la batosta anche in questo caso la risposta esatta era la A vediamo la